Ehi tu, sei stango di essere povero su GTA V online? Giochi tutto il giorno ma guadagni veramente pochissimi soldi? Ho io la soluzione che fa per te Entra nel mio canale Telegram Scarica l'applicazione disponibile su Android ed iOS E una volta fatto questo entra nel mio canale Da qui troverai tutti i contatti per la mia chat privata Dove potremo metterci d'accordo per l'acquisto di un account moddato O un'aggiunta di soldi nel tuo account per PS4 Questo servizio è in offerta solamente per PS4 E in giunta di Natale ci sono anche degli sconti in tutto il servizio Quindi potete dare un'occhiata che non vi fa male Troverete tutti i contatti dove potete scaricare Telegram Entrare nel mio canale e quant'altro nella descrizione Buona visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti